L'inizio lo ricordo benissimo. Era la fine di gennaio del 2011. Io ero da qualche anno consulente per il Comune di Genova per la Città Digitale e avevo aperto il canale YouTube del Comune Genova Municipality Channel facendo un accordo molto particolare con Google. E niente, cominciavo a valutare l'ipotesi visto il successo che il canale video del Comune stava avendo con numeri per l'epoca veramente straordinari e con una visibilità veramente notevole. Avevo anche creato un'equipe di videomaker. Insomma, ci eravamo dati da fare. Cominciai a valutare l'ipotesi che forse era venuto il momento di fare il grande salto e di aprire una sezione video di Psichiatri Online che fino ad allora era soltanto una rivista, diciamo, testuale. Siccome non ero molto bravo a fare queste cose, chiesi aiuto a Ornella Borghello che era ed è la responsabile dell'informatica di Palazzo Ducale a Genova che mi aprì l'account su YouTube e mi aiutò nella creazione, diciamo, del canale personale. Che poi personale non era, ma era della rivista. E come dire, era il gennaio del 2011, dicevo, ma l'ufficialità dell'avvio del canale avvenne un po' più tardi, circa un mese dopo. Infatti, in quell'anno, a fine febbraio, c'era solitamente il congresso della SOPSI a Roma, a Lilton. E, a differenza degli altri anni in cui avevo partecipato con i miei specializzandi facendo dei report testuali di ciò che avveniva nelle aule congressuali, quell'anno decisi di presentarmi con la mia micro telecamerina, una Sony, per realizzare i primi video di Psichiatria Online Italia. E infatti, cosa che feci? Mi dettero una stanzetta nei fondi e lì cominciai a fare delle interviste, diciamo, ai protagonisti. E ricordo, come dire, l'intervista al professor Cassano, che per quanto persona sicuramente, con tanti chiari scuri, è stata una delle colonne della psichiatria italiana del dopoguerra. Ma il video che ebbe più successo, e che adesso vi mostro, era in realtà il video che feci al mio amico Giovanni Stanghellini, a cui chiesi di parlarvi di qualcosa di particolare, decidemmo di improvvisare un video sulla fenomenologia dell'istantaneità, e lo realizzò, poi andò in rete e dopo pochi giorni dall'andata in rete venne chiamato dall'Ailaria D'Amico per la Sette per essere intervistato su questo concetto della fenomenologia dell'istantaneità. E noi tutti a guardarlo, ovviamente in televisione, a fare il tifo per lui. Ma a quel momento, come dire, di acqua sotto i ponti nei passati, sono più di undici anni che il canale YouTube di Psichiatria Online esiste. E credo che in qualche maniera valga la pena parlarne un po', proprio com'è nel programma che sto realizzando in questo momento, e illustrarvelo, specialmente per coloro i quali lo conoscono meno. Per cui, come dire, passerò ad illustrare un po' come è organizzato e quali sono i contenuti che sono presenti. E alla fine farò alcune considerazioni generali sul progetto video della rivista e sull'aiuto che ci potrete dare. Beh, intanto guardiamo un attimo il canale. Vedete, come dire, è un canale YouTube come tanti altri. È ovviamente presente, non lo dimenticherò mai di dirvelo, il tasto iscriviti, che è estremamente importante, in quanto maggiori sono le iscrizioni, maggiore è la visibilità di un canale. E se voi apprezzate quello che facciamo, è estremamente importante che voi vi iscriviate, ovviamente. Diciamo che c'è un video in evidenza, in questo caso è il video di presentazione della rivista che ho realizzato nei giorni scorsi, e poi ci sono una serie di playlist, perché ovviamente da quel video di Giovanni ad oggi sono passati più di 3.000 video. Per cui, voglio dire, la massa di contenuti presenti nel canale è tale per cui, benché siano rintracciabili ovviamente con una ricerca su Google o anche su YouTube, sono stati organizzati in playlist per rendere possibile una fruizione più intelligente da parte di chi visita il canale e non vi arriva soltanto perché ha digitato un termine e ovviamente, data la massa dei video, trova qualcosa che noi abbiamo realizzato a riguardo. Vediamo un attimo quindi come si sono organizzati. Vedete, noi abbiamo le varie playlist, i casi clinici del studio bipolare che sta andando benissimo in questo periodo, le interviste che abbiamo fatto all'ultimo congresso della SIP, la nuova serie che stiamo realizzando del rapporto tra letteratura e psicanalisi, poi abbiamo un'altra zona che mi piace molto, sono queste due playlist, su cui mi soffermo un attimo, che sono il corso di psichiatria per studenti di medicina realizzato in collaborazione con l'Università di Genova, che è la prima volta che mette a disposizione un intero corso di psichiatria liberamente fluibile attraverso YouTube e mi sembra una grande cosa di cui devo ringraziare tantissimo Mario Amore e i suoi collaboratori per la disponibilità e la generosità con cui sono prestati a fare questo lavoro. Sono più di 120 video che coprono ovviamente l'intero corso di psichiatria. Sotto c'è una voce che per me è fondamentale e che sono gli audiolibri di psichiatria. Vedete, è una playlist in cui io ho per adesso pubblicato l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, ho pubblicato l'Io e meccanismi di difesa di Anna Freud e invidia e gratitudine di Melania Klein, ma che poi nel tempo, stiamo lavorandoci, ne arriveranno degli altri. A me sembra che questa offerta culturale della rivista sia estremamente importante e quindi come tale io la sottolineo e vi invito a scoprirla proprio per l'estrema qualità dei testi che stiamo proponendo e per la facilità di fruizione ascoltandoli e non leggendoli. Ma insomma, come dire, Pseccati Online Italia in video è una realtà oramai consolidata. Io ho la ragione per cui cominciai, la ragione per cui continuo a pensare che è una buona idea e che in realtà oramai il video è come forma di fruizione di contenuti anche seri, diciamo così, scientifici, è oramai sdoganato. Un po' come è successo per i webinar che noi stiamo facendo ovviamente e che ogni mese, spesso con cadenza anche maggiore di una volta al mese, proponiamo in diretta streaming, diciamo che in generale il video è sdoganato, cioè la gente lo usa ancora di più e in qualche maniera nel caso dei contributi scientifici può rappresentare una valida alternativa all'ascolto di una relazione ad un congresso e credo che sia una cosa abbastanza importante da dire. Io volevo concludere parlando brevemente però da un lato della filosofia con cui abbiamo fatto in tutti questi undici anni il nostro lavoro online nel campo video e dall'altro spiegarvi come in maniera molto semplice potete aiutarci nel rendere sempre più visibile e importante questo canale. Filosofia. La scelta è quella di fare l'editore. Cioè io non, tranne questi video di presentazione che faccio, non mi propongo come un tuttologo che parla di qualunque argomento del campo psichiatrico e psicologico. Io preferisco, ho sempre preferito, da un lato andare ai congressi e registrare le relazioni presentate ai congressi anche per farne una memoria storica nel tempo ed evitare che i contenuti in una bella relazione siano stati fruibili soltanto da quelli che c'erano. Ecco il video in questo senso è veramente una specie di biblioteca di Alessandria, no? che conserva nel tempo la informazione. Dall'altro scegliendo degli esperti specifici nei vari ambiti chiedendo loro di fare una relazione, di fare un'intervista ma in ogni caso evitando questo aspetto autoreferenziale. A me sembra abbastanza importante e soprattutto una cosa, come dire, molto seria che rende un po' diverso, credo, il canale YouTube di Psichiatria Online in Italia rispetto ad altri canali che sono più simili a dei vlog, dei videoblog piuttosto che a una vera rivista. Invece la vocazione di rivista scientifica che ovviamente Psichiatria Online Web ha è stata translata completamente dentro il canale YouTube rendendolo in questo senso molto particolare. Volevo poi parlare un attimo dell'aiuto che voi potete dare che mi sembra estremamente importante. Allora, vediamo un attimo. Intanto la prima cosa da dire è che mi sembra abbastanza importante come dire iscriversi, vedete? Più sono gli iscritti alla rivista maggiore sarà la visibilità della rivista stessa in rete perché l'algoritmo di YouTube, di Google che domina per proporre i video è collegato proprio con come dire l'iscrizione al canale l'apprezzamento e la diffusione dei video fuori da YouTube per cui prendiamo per esempio il video di Giovanni Stanghellini di cui parlavo prima è fondamentale mettere un mi piace aggiungere quindi il mi piace e eventualmente usando il tasto condividi condividere sui social un contenuto che vi piace e in questa maniera sicuramente voi ci potete aiutare al tempo stesso se il video vi è piaciuto vi ha anche una funzione che per me è abbastanza importante che ho attivato da poco tempo che è la funzione grazie vedete se io clicco sopra grazie essendo essendo iscritto ovviamente posso sia a YouTube posso fare una donazione da un euro in su per ogni video che io ho visto che ho apprezzato e questo è sicuramente un ulteriore grande aiuto che potete dare al nostro lavoro di volontariato culturale che dire concludendo è un'avventura cominciata undici anni fa di cui sinceramente devo dire sono molto orgoglioso sarei bugiardo se non lo dicessi diciamo che è stata un'impresa pionieristica che sta andando avanti con una crescita esponenziale noi viaggiamo oramai oltre i centomila video visti al mese abbiamo oltre 33.500 iscritti che continuano a crescere si può fare di meglio secondo me col vostro aiuto ve l'ho detto io credo che il miglior modo di apprezzare il nostro lavoro sia quello di diffonderlo in rete per far sì che più persone lo conoscano e al tempo stesso come dicevo prima la visibilità del nostro lavoro aumenti per quei meccanismi un po' come dire strani ma che comunque dominano la rete che sono gli algoritmi di valutazione dell'impatto di un contenuto proprio all'interno della rete per cui grazie di avermi ascoltato e alla prossima ciao grazie a tutti Grazie a tutti